Montagne di pneumatici fuori uso lungo le sponde del Saline. Una distesa di circa 500 metri quadri è stata posta sotto sequestro dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dai Carabinieri Forestali di Pescara. La scoperta è avvenuta durante una serie di controlli effettuati dalle forze dell'ordine sullo stoccaggio di pneumatici nei vari comuni della provincia. Il deposito abusivo finito sotto la lente degli inquirenti si trova nella zona della vecchia discarica comunale di Montesilvano. A pochi passi dal fiume i militari hanno trovato oltre un migliaio di gomme fuori uso di diverse dimensioni accatastate in più punti in mezzo alla vegetazione su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico che in parte rientra nel demanio del fiume Saline ed in parte appartiene a privati. Il sostituto procuratore Anna Benigni ha aperto un fascicolo contro i gnoti poiché responsabili dell'attività illegale non sono ancora stati individuati. Nel corso delle operazioni però sono stati raccolti diversi elementi giudicati utili. Ai fini dell'indagine a partire da una serie di adesivi con i nominativi di alcuni rivenditori applicati sugli pneumatici ciò consentirà agli inquirenti di risalire all'identità dei responsabili. Parallelamente si lavora anche sulle immagini carpite dalle telecamere di sorveglianza delle aziende che si trovano nella zona. Per arrivare alla discarica abusiva infatti bisogna percorrere il lungo fiume Saline e chi trasportava le gomme da smaltire potrebbe essere stato ripreso. Al vaglio dei militari anche alcuni cumuli di pneumatici che si trovano a pochi passi dalla discarica principale. Si cercherà di capire se sono tutti riconducibili ad un unico responsabile. Il provvedimento di sequestro dell'aria nel frattempo è stato già convalidato e la discarica è stata affidata in custodia giudiziale al sindaco di Montesilvano.